E poi stasera chiamo Antonio perché abbiamo fatto un discorso anche per quanto riguarda la Corte Costituzionale. Ammo fan un po' con la conta e vede quanti sono i nostri e quanti sono i loro. Lui ha in mano il partito e anche gli altri stanno zitti e stanno benissimo. Non state a leggere i titoli regionali. Stamattina hanno parlato di P3, quattro sfigati pensionati che si mettono insieme per cambiare le cose in Italia. Ma se non ci riesco io, che sono quello che ha detto l'editore, non sono riusciti in nessuna occasione. I rapporti di Berlusconi con la massoneria non sono mai cessati. In realtà Berlusconi ha avuto rapporti molto stretti con Armando Corona, che è stato gran maestro dall'82 al 90. E l'anello di congiunzione era proprio Flavio Carbone. E l'anello di congiunzione era proprio Flavio Carbone. Non conosco alcunché, neanche le finalità. Grazie. 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 Grazie.